Il sesto raggruppamento dall'Italia, Alessandro Braga, che ringraziamo per essere qui con noi. Ed ecco a voi i giovani del raggruppamento dei Segugi e Cani per Pista di Sangue, il Dalmata, il Gran Basseco in Fondland e il Beagle. Un raggruppamento dedicato alla caccia alla selvaggina d'appelo. A parte il Dalmata, che viene definito cane da carrozza proprio per la sua attitudine alla guardia delle carrozze trainate dai cavalli, è il simbolo dei pompieri, la mascotte dei pompieri negli Stati Uniti. La razza invece francese è quella del Gran Basse, Basse è il tipo di struttura che ha questo cane, Bassetto, ovvero con un mancato sviluppo delle ossa lunghe, delle zampe. Griffon perché ha il pelo duro, Vendéin perché arriva dalla Vendée, una regione della Francia. Razza invece di origine inglese, molto proporzionata è il Beagle. Pensate che ha un timbro di voce molto particolare, tutti i Segugi segnalano la fase di caccia con dei latrati di differente tipo. Quando si sente abbagliare un Beagle, gli inglesi dicono che è un canto, Singing Beagle. Siamo pronti! Grazie! Vendéin Secondo, Dalmatan Viglio 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 Secondo Cane famoso grazie a Walt Disney, Dalmatan Vincere il Beagle, giovane del stesso raggruppamento, Segugi e cani per pista di sangue, rappresenterà questo raggruppamento, il cane di razza Beagle. Ed ora eccoci pronti! Grazie 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 Grazie